Professionals terza classificata, la concorrente numero 12, Cristina Caracci Miss Italia Miss Italia Dove vai Cristina? Vieni qua, la fascia è messa male Ecco qui, facciamo le cose con calma Una foto tutti insieme E poi una doverosa passerella La passerella è tutta tua, vai, applauso Cristina Caracci Grazie, al lunedì, ciao Complimenti Cristina Allora, non tornare a posto, metti di guarda se vuoi qui davanti E aspetti le tue compagne di avventura Andiamo, andiamo, saliamo un gradino del podio Per la seconda classificata, chi premia? Allora, vediamo un po' Daniela Mariotti Vircia, come ha scuola? Vircia, fammi copiare che io non ce l'ho, tu sì Lookmaker delle vive E Tommaso Capezzone Personal Trainer dei beat Saranno loro a incoronare